signori buongiorno video 20 libreria svuotamento rimesso in ordine 50 film da vedere che devo vedere devo mettere in ordine qualcuno l'ho già visto jonaka visse nella balena sono sicuro di averlo già visto e l'ho ricomperato non so perché forse era dentro in un blocco molto bello se per caso vi capita ramson sean connery questo ormai sentito di sean connery però sean mi manca un sacco di roba anche se ho visto che ce n'è una montagna su youtube non so perché è gratuito tipo troppo vecchi sotto un ton di anni stop loss questo sono quasi sicuro di averlo già spacchettato sempre da una qualche libreria da una qualche blocco dell'usato anche questo viene da un mercatino dell'usato la rivoluzione rivoluzione bolshevica ed è ancora incartato con la pellicola originale poi abbiamo thunderbird dovrebbe essere una roba per bambini in teoria quichotte peccato che ci mettono su istituto luce peccato che veramente che ci mettono questi cosini qua e questi quadri glielo ho già detto in tanti mercatini l'altro giorno ne ho fatti non so quanti ne ho passati sono in ferie ne ho passati non so quanti o tutti questo vizio mamma mia parte che stanno facendo di quegli schifo i prezzi un colpo all'italiana scusate stanno alzando i prezzi non tutti qualcuno no ma fuori di testa vabbè uno strano caso con robert darwin giugno l'ho iniziato dico la verità e non l'ho mai finito oppure ne ho due e non mi ricordo com'è finito devo andare adesso ho fatto una recensione dico la verità mordimi questa è una di quelle porcate con i come si chiamano con i con i vampiri mamma mia cosa 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 oggi queste cose femmine contro maschi adesso non so se c'ho lo stesso se ho maschi contro femmine beh come nel video precedente che vi ho detto che film era non mi ricordo il titolo praticamente ho la versione snapper e la versione non sta per le due versioni quella diciamo che sembra vetro quest'anno questa qua normale l'ho già visto l'ho già sentito l'ho già sentito quando ne ho messi via mi sono accorto che lo stesso film doppio kung fu cinque dita di violenza quanto parlo forse dovrei parlare di meno ditemelo se preferite che parlo di meno naomi watts fair games allora marigold hotel che questo è un titolo che ho già sentito più volte voice questo mi sembra di averlo già fatto vedere come potremmo dire questa cosa street dance ci sono tutti ancora chicchi questo mi sa che è vuoto fighting vuoto grazie veramente a meno che non uno di quelli che ho trovato vabbè sotto sopra mai sentito spider witch spider witch vuoto le cronache a meno che non siano quei due che ho trovato dietro in un altro dvd ma mi sembra un po strano qua c'è vacancy ma un weekend a bamboccioni sono sicuro questo che l'ho già sparchettato da qualche parte c'è però mio fratello e figlio unico e anche questi ci sto pensando ma come fa a fare tutto con la sara jessica parker quella di sex on the city l'avete vista la serie molto bella anche per noi uomini bisogna ammettere che è molto bella un principe tutto mio questo quasi sicuro di aver fatto anche la l'unboxing controllare cenerentola è successo qualcosa nel frattempo al wifi perchè qua sta lampeggiando tutto moonson wedding non so cosa sia ma sembra bello leone d'oro questo lo mettiamo qua sicuramente passa tra i primi da vedere beverly hills non lo so non mi convince molto terapia d'amore anche questo sicuramente non finisce tra fatti che vedrò prima congo sono quasi sicuro di avere visto questo film ma non sono sicurissimo tra l'altro a me interessavano avere il film non congo qualcosa del genere con la tanto faccio vado avanti infatti mi viene in mente center girl con la miss miss alien ha fatto un film e poi non è introvabile sto fin qua i diari della motocicletta il film era gorilla nella nebbia film introvabile finché ho trovato anche questo mille vaganti finché ho trovato ho sicuramente il vhs ma mi sta scaricato dalla televisione di parla di le prime vhs quando si poteva registrare adesso si può ma non è il caso trappola cinese se tengo una cosa la tengo bene è introvabile io sono sempre ero sicuro ogni volta che vedo 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 congo mi viene in mente gorilla nella nebbia ma poi lol vale il circus lasciamo in terra si staviamo tranquilli non è successo niente che babbo stuc ancora impacchettato ma non è caduto solo napoli milionaria collector edition e fin di eduardo c'è meno male chiuso ma rovinato dal segnetto runner runner ben affleck e questo mi sembra davvero già crazy stupid love vuoto veramente il quarto a irina palm c'è meno male exodus il re dei re 3d pacchettone come si può dire gigante questo 3 film addirittura cioè tra fit 33 blu ray però la verità che non gli piace abbastanza questo sicuramente l'ho visto lo recensito sono sicuro amore altri rimedi i due attori sono famosi ma il film mi sa che di una porcata l'urro dell'odio anthony hoppins e alec boldwin ecco prima che film parlavo di anthony hoppins quello con il signore dello zoo vuoto anche questo olè nella valle dell'edal di lì e la ha parlato di un cofanetto ne ho un paio di scatola di scatola di scatola venti fa parlavo di un cofanetto che a quanto pare c'è dentro e toni hoppins irwin qualcosa un cofanetto rosso sono tornato mai visto e vi dico l'action happy fit happy fit 2 questo qua è roba per bambini da mettere da parte sicuramente quando c'è la silvio e finché non vedrete sicuramente in tv poi tutto su mia madre al modo bar il suo film più bello almeno non è che li ho visti tutti ma secondo me è la pelle che abito c'è una roba guardatelo ricordi famri questo qua mi sa che è un video privato quindi se lo sono dimenticati dentro velocità estrema rosanna archette un video privato non ci credo e basta così cinque sono vuoti un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like che fa piacere e scrivete se c'è qualche film che secondo voi devo mettere davanti da vedere prima poi ci vorrà suo tempo ma basta così un saluto a tutti se volete l'ho già detto ciao ciao spegniamo come si fa